Era nel Lipparino che aveva base l'organizzazione dedita allo spaccio di droga e composta da 9 italiani e 12 albanesi. Lo smaccio di cocaina interessava tutto il territorio ebleo, in particolare la zona costiera e i luoghi della movida dei giovani e ci sono voluti oltre 200 carabinieri per smantellare la rete di spacciatori. Gli italiani sono tutti imprenditori e braccianti agricoli, alcuni già noti alle forze dell'ordine, altri incensurati, tutti vittoriesi, di età compresa tra i 30 e i 35 anni, 16 le ordinanze di custodi a cautelare in carcere, 5 domiciliari per complessivi 21 arresti. L'operazione antidroga fa seguito a quella di un anno fa chiamata Camarina Drugs e costituisce il risultato di un'indagine che ha consentito di arrestare in flagranza 8 persone e recuperare circa un chilo di cocaina pura. Agli arrestati è stato contestato il reato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina in concorso e continuato, nonché per alcuni di loro, di detenzione e porta abusivo di arma da fuoco. Numerose reperquisizioni nei confronti di tutti gli indagati e di altri soggetti coinvolti nell'inchiesta al fine di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente. Sequestrato denaro contante per 9.000 euro provento dell'attività di spaccio e materiale per il confezionamento della droga. Era un albanese, soprannominato Emiliano, il capo della banda che spacciava in prevalenza la coca nei pressi di una villetta a punta braccetto, nascondendola in barattoli di vetro in mezzo ai cespugli. La rete di spaccio era protetta da vedette che i militari hanno faticato non poco a bypassare per procedere con gli arresti in flagranza.